Siamo in esplorazione in una delle zone più impervie della città, una zona lontana dal centro abitato, dal traffico veicolare. Siamo su Viale Tatarella. Sì, avete capito bene, Viale Tatarella. Sembra una giungla, ma non lo è. Sono cresciuti alberi di fico. Che cos'è questa specie? Vino, che cos'è? Non si sa. Di tutte le specie. Abbiamo macchia mediterranea come se non ci fosse un domani. Allora ci chiediamo, ma può la banchina di una strada a così alto scorrimento essere in queste condizioni, completamente inutilizzata? Oggi siamo qua con Dino Rizzi per una provocazione. Taglieremo il più alto dei fusti di questa banchina ormai giungla per dire che forse sarebbe arrivato il momento di intervenire. Anche perché col fai-da-te non si arriva molto lontano. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Attenti! Che lavoro, Daniele. Che lavoro, Daniele. Vai. Non possiamo andare nella banchina perché è pericoloso. Qui sprecciano a 120-130 km all'ora, anche se il limite è molto meno. Ma noi ce la stiamo facendo, caro Dino. Ci saranno voluti minimo due o tre anni per farlo arrivare a quelle condizioni. Sì, sì. Uno, due, tre. Vai. Uno, due, tre. Lasciai! Non è un ramoscello, Dino. È un tronco. È un tronco. E quindi facciamo appello a chi di competenza. All'amministrazione che mandi la multiservizi con delle seghe circolari, con motoseghe e quant'altro per pulire la banchina. Anche perché poi le responsabilità, qualche volta, può sempre poi pagare quello che effettivamente è responsabile, no? Qualche volta. In Italia può succedere. E ambo i lati. Tutta la banchina, ambo i lati, da via Tatarella fino allo strano. Se non le fa la manutenzione, la fa dappertutto. Anche ventagli l'oleandri centrale. Sì, mi si fa. Hanno tagliato un po' l'oleandri centrale. Anche perché, guardate, praticamente i tronchi stanno rovinando completamente anche il marciapiede e il cordolo di cemento. È un cartello che difficilmente si vede proprio a causa degli alberi, degli arbusti che ci sono qua. Per farvi capire quanto è alto quello che abbiamo tagliato, useremo come metro di valutazione proprio il cartello. Eccolo qua. Restiamo qua noi due a Madreau. Oh, che facciamo? Secondo te? Ci dobbiamo dare a qualcuno che va a Cefali. Si facciamo le canne con queste, è vero. Giusto giusto, 5 metri. Vabbè. Uno, due, tre. Eh vabbè. Eh vabbè.